Ciao, sono Lisa Nitti, fondatrice di Sinfonie di Nozze. Se stai guardando questo video è perché nei giorni scorsi sei entrata in contatto con Sinfonie di Nozze ed hai avuto modo di parlare direttamente con me o con uno dei miei collaboratori per conoscere meglio e più da vicino il metodo che abbiamo creato per il rito civile. Non esisteva in Italia la formula per legare la lettura degli articoli del codice civile e la firma dei registri ad un insieme ordinato di gesti uniti da una logica ben strutturata. Dalla mia esperienza e dalla storia della mia vita so bene cosa vuol dire doversi sposare con rito civile e non sapere come fare. Conosco bene quello che si prova nel vivere l'ansia di dover organizzare una cerimonia senza strumenti e senza competenze, col timore di affidarsi a gente inesperta che rimpiazza con i copi in colla temendo il solido freddo breve e triste rito civile. Se fino a ieri rirassegnata e non vedevi con chiarezza quello che sarebbe accaduto durante il tuo rito civile oggi hai trovato le persone giuste. È l'unico metodo che ti permette di toccare con mano ogni momento della tua cerimonia così come meriti. Nei prossimi video ti darò la dimostrazione concreta di come Sinfonie di Nozze ha applicato il metodo per vivere il rito civile in Italia e ti farò conoscere alcuni dei nostri sposi. Se stai organizzando il tuo matrimonio civile o conosci un familiare o un amico che non sa cosa fare e vuoi garantirti il giorno più importante della tua vita non esitare a cliccare qui sotto e a chiedere un nuovo appuntamento. Non perderti il prossimo video in cui ti darò un'ulteriore dimostrazione di chi ha già beneficiato di Sinfonie di Nozze con l'obiettivo di risolvere anche la tua situazione. Ti abbraccio!